La sfida del secolo... Che succede, amico? ...sta per iniziare. Si salta! Wow, di gran classe! I Looney Tunes tornano al cinema... Benvenuti a Space Jam! Ci riprenderemo tuo figlio, te lo prometto. Per il match più esilarante di sempre. Siamo i Looney! Molto cartoni, forti come tuoni! Avanti! Wow. Space Jam, New Legends. Dal 23 settembre al cinema. Siamo i Looney Tunes.